Presidente, io credo che di forzature in queste ore, in questi giorni, se ne siano fatte tante. Però c'è una forzatura a cui noi non possiamo accedere, e cioè l'impedimento a un deputato della Repubblica di poter esprimere il proprio voto. Questa mattina questo impedimento è stato operato nei confronti di un deputato del mio gruppo, l'onorevole Cristian Ivernizzi. E' un dato di fatto. Noi non chiediamo che si ritorni in Commissione a discutere quando non si è potuto discutere, ma chiediamo che si ritorni in Commissione per votare quando non si è potuto votare. Se l'Aula, lei, non so chi, questo in qualche modo non è in grado di garantire, perché, francamente, noi non capiamo dove siano e dove resistono i presidi di democrazia in quest'Aula. Questo non lo possiamo accettare. Questo non lo possiamo accettare. Questo non lo possiamo accettare. Un filo rosso, un filo rosso che lega la Boldrini al suo illustre predecessore Violante, che introdusse questo strumento proprio contro la Lega Nord, che allora faceva opposizione e utilizzava legittimamente quelli che sono i regolamenti della Camera, come oggi stiamo facendo. Quindi io credo che ci siano delle alternative, ovviamente, alla decretazione di urgenza e ci siano anche delle alternative a delle misure così drastiche che costituirebbero un precedente e che quindi darebbero un pessimo segnale alle minoranze del Paese, che, visti i sondaggi, non sono più tanto minoranze. Adesso, con gli episodi di ieri sera, abbiamo avuto anche la certificazione proprio materiale dell'inutilità del Parlamento. A questo punto non ci resta che chiuderlo, andare tutti a casa, perché così sembra aver deciso questa maggioranza, questa presidenza, che sta mettendo tutta per diventare la peggiore presidenza della storia repubblicana e in questo intento, diciamo, che sta facendo molto bene. Semplicemente la Boldrini si è trasformata da garante di tutti i gruppi parlamentari, come dovrebbe essere il Presidente della Camera, a me l'esecutrice dittatoriale delle volontà scaturite dagli incontri tra la nuova corpia della politica, Renzi e Berlusconi. Questo è successo ieri, mettendo la ghigliottina ad un provvedimento che per errori dal punto di vista del coordinamento anche suo dei lavori di aula rischiava di scadere e questo è successo oggi quando alcuni deputati dell'opposizione non hanno potuto partecipare ai lavori della Commissione che trattava la legge elettorale, sono rimasti fuori dalla Commissione e lei ha fatto assolutamente finta di niente e manda avanti una legge elettorale di cui nessuno sente la priorità intanto che le famiglie non arrivano neanche alla terza settimana. Una situazione inaccettabile. Il Presidente della Camera sta facendo la garante della segreteria del Partito Democratico, non della Camera dei Deputati, tantomeno della Costituzione e del Regolamento. E' incredibile che ieri la Presidente della Camera ha voluto mettere la ghigliottina su un provvedimento, un decreto del Governo che non ha avuto i tempi necessari di discussione all'interno della Camera dei Deputati e oltretutto un provvedimento omnibus, un decreto omnibus che non aveva assolutamente tutti quei requisiti di necessità ed urgenza che prevedeva la Costituzione. Oggi, fatto ancora più grave, è stato impedito di fatto a dei nostri parlamentari, non solamente della Lega ma anche di altri gruppi, di partecipare alle votazioni in commissione affari costituzionali sulla legge elettorale. Abbiamo fatto presente in aula alla Presidente quanto avvenute, quindi era palese l'inregolarità della votazione. La Presidente ha fatto finta di nulla, violando i principi di rappresentanza democratica e parlamentare. La Presidente della Camera deve dare le dimissioni immediatamente perché non tutela più tutti i parlamentari, quindi tutti i voti espressi dai nostri cittadini, ma tutela esclusivamente la maggioranza e la segreteria del PD. Il segretario del PD, Renzi, non è la democrazia, ma i cittadini lo sono. La Presidente della Camera deve prenderne atto e fare un passo indietro.